E sulle vicende politiche di queste ore un editoriale del direttore del tigiuro Augusto Minzoni. A pelle, figlio di a pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo, fatta da pelle figlio di a pollo. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Trentatré trentini entrarono, proterellando in Trento, tutti e trentatré proterellando. Pre tigri contro pre tigri, pre tigri contro pre tigri. Se l'arcivescovo di Costantinopoli si volesse arcivescovo scostantinopolizzare, vi arcivescovo costantinopolizzereste voi, per arcivescovo scostantinopolizzare lui? Sereno è, seren sarà. Se non sarà seren, si rasserenerà sotto le frasche del capanno. Quattro gatti grossi stanno. Sotto quattro grossi sassi. Quattro gatti grossi e grassi. Una rara rana nera sull'arena errò una sera. Una rara rana bianca sull'arena errò un po' stanca. Andiamo a navigare con nove navi nuove. Ma una delle nove nuove navi non vuole navigare. Filo fine dentro il foro, se la ruffi non lavoro. Non lavoro il filo fine fora il foro come un crine. Dietro a quel palazzo c'è un povero cane pazzo. Date un pezzo di pane a quel povero pazzo cane. Orrore, orrore, un ramarro verde su un muro marrone. Porta aperta per chi porta. Chi non porta, parta pure. Poco importa. Se la serva non ti serve, a che serve che ti serva di una serva che non serve? Serviti di una serva che serve. E se questa non ti serve, serviti dei miei servi.